Spera la partenza, Isela all'Aurora, 3, 4 e 5 di testiera. I Glow Eyesail secondo il capo. I Glow Eyesail. I Glow Eyesail. L'Aurora termina con zero penalità nelle due fasi con il tempo di 38 e 38. Secondo posto in classifica provvisoria che è condotta da Gigi de Davidin con il tempo di 38 e 22.